ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua ancora una volta con le vostre collezioni che diventano le protagoniste del canale un simpatico format che mette a disposizione la mia piattaforma per voi per voi che state guardando voi utilizzate il mio contenitore per farci vedere i vostri orologi e il bello di questo format è che nonostante a volte vengano puntate piuttosto corpose e lunghe si possono guardare anche nel tempo a spezzoni nessuno vieta di guardare un video due video degli amici del canale fermarlo andare a fare una passeggiata il giorno dopo riprendere da dove si era lasciato diciamo che è una antologia una sorta di antologia ecco come quando si parla di serie tv ad esempio c'è la serie tv che ha una trama trasversale no la trama verticale è quella di ogni puntata più quella orizzontale quella di tutta la serie un'antologia invece prevede puntate singole in ogni video c'è una puntata singola quindi è una sorta di antologia o anche oggi sono stato abbastanza erudito meno male l'orologio del giorno è questo bellissimo cartier santos ultimo arrivato in collezione ora è qualche giorno che non me lo tolgo oddio a sprazi nel senso che per la maggior parte ne indosso questo poi in alcune occasioni lo ripongo e magari per qualche ora indosso qualche altro orologio vado magari in un posto me ne metto un altro e poi però torno sempre a indossare questo perché è l'ultimo e lo voglio assaporare per bene voglio vedere tutti i punti forti punti deboli come mi sta come non mi sta è bello orologio di forma quindi è completamente differente da tutti gli altri orologi della mia collezione ed è questo un punto che mi piace rimarcare no in questo momento mi piacerebbe avere tanti orologi che si differenziano uno dall'altro piuttosto che avere uno molto simile all'altro e di marchi differenti se è possibile no un bright link un cartier un rolex un omega un panerai magari anche quello un citizen il prossimo citizen ho deciso che il prossimo mi ci vuole un citizen già pronto per la per la prossima estate al posto del promaster col cintino giallo che ho venduto a settembre ora devo ripiazzarlo e sono deciso ecco questo è una cosa interessante sono deciso tra il promaster marine che è simpatico bello come e il promaster 1977 quello in titanio che costa il doppio però c'è il calibro della serie 9000 c'è il vetro in zaffero però è in titanio riuscirò a resistere ad indossare il titanio al polso sono deciso tra questi due ognuno si risparmia viene fuori un bello orologino l'altro costa di più ma ha delle caratteristiche migliori pur avendo titanio vedremo dai decido devo decidere quando da qui a giugno tutto il tempo che voglio adesso passiamo ai video vando ai discorsi inutili quindi dito infuocato barra spaziatrice pronta a prendere i colpetti e lo diamo il primo colpetto piccolino ciao davide ciao completo come ti avevo anticipato completo provo a completare la mia collezione almeno momentaneamente ma che se negli ultimi due pezzi che acquistato va bene ti avevo già accennato che stavo guardando due pezzi iniziamo col primo ecco qua top parliamo di evc portoghese sette giorni di carica simpatico non mi piace 2.3 mm di diametro spessore acciaio come vedi anche la cassa è parte satinata parte lucida un bellissimo gioco abbiamo il suo movimento calibro di manifattura un prodotto veramente molto 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 bello molto 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 già vent'anni fa mi piaceva infatti credo che andasse molto di moda una ventina d'anni fa simpatico vedere uno dei pezzi che avevo nel mirino bravo acquistato di listino tra l'altro mi hanno fatto un ottimo prezzo perché l'ho pagato meno di un secondo polso so che non ami quadranti bianchi ma a mio parere un 42.3 polli di diametro di conseguenza è molto leggibile e i numeri in oro secondo me sono veramente molto molto belli molto molto belli primo dei due ultimi orologi che ho acquistato e questo è vc bravo secondo pezzo vai credo che questo pezzo non sia mai girato sul tuo canale vediamo perché un orologio che secondo me è molto sottovalutato vai sì ma eccolo qua faceron costantenne overseas plus dial quindi di al certo un pezzo che secondo me è veramente un'opera d'arte è bello si sia per le rifiniture che per l'estetica che per la tecnica nello specifico questo è un 41 mm di diametro e 11 mm di altezza un orologio super super bello che non capisco come mai non sia non abbia ancora preso le quotazioni dei più blasonati patena ottilus e secondo me questo non ha assolutamente nulla da invidiare lo vediamo qua movimento di ovviamente manifattura con il suo bellissimo rotore in oro 22 carati 22 fatto a mano punzione di ginevra come vediamo qua che stabilisce la precisione chiusura del bracciale con la stella croce di malta un orologio davvero davvero bello a mio parere e soprattutto un orologio anche moderno perché ha delle caratteristiche che lo rendono molto fruibile esempio guardiamo qua queste adesso usare due mani estate ritiriamo si allarga non sapevo dei micromovimenti per il passaggio non so dall'estate ecco dall'aria condizionata e poi bello ci piace in più ha la possibilità di cambiare cinghini vengono dati cinghini in dotazione tre cinghini cinghini uno in pelle e uno in e ci sgancia molto facilmente così certo uno delle levettine facilissimo vengo io lanciato un bracciale ecco qua che abbiamo un altro orologio con il cinghino ah 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 abbiamo la claps ovviamente la claps da posizionare ragazzi un minimo di termini no saperli usati fatto fatto facile veloce veloce e abbiamo praticamente un altro orologio vedete il calcio blu su blu dia sta veramente bene perfetto buon anno buon anno tanti ancora complimenti per il canale ciao 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 è bellissimo il cinghino con la claps e il blu dia cioè sono veramente una un insieme no cavolo i complimenti cioè praticamente sono solo un orologio in tutto sto casino qualche fatto mi ha fatto vedere solo un orologio va bene prendiamo per buono sì il Vacheron Constantin overseas overseas è proprio veramente un bel orologio mi piace fortunatamente per me in questo momento in questo momento eh gli orologi con bracciale integrato di questo tipo qua mi sono un po' scesi no ma poi li saliranno cioè sali scendi tutto così in questa passione no sali scendi sali scendi e sicché non lo vedo più come il mio grail watch diciamo così non sono nemmeno al corrente di quanto siano le quotazioni di quanto possa costare un orologio del genere tanto tanto sicuramente però mi dici che secondo te sottovalutato perché non raggiunge le quotazioni sì ma non è che ti devi sentire sbinuito perché è un orologio che non ha raggiunto le quotazioni di quegli altri che tu ritieni al suo pari cioè meglio meglio ancora che se si può tra virgolette acquistare un orologio ben fatto di pregio di blasone ha delle cifre ancora abbordabili diciamo rispetto agli altri no non è non è che devi devi aspettare assolutamente che salga di prezzo per poi essere contento ora raggiunto quelle quotazioni adesso sì che me lo posso godere non funziona così non è che si va in base al prezzo si va in base al sentiment del momento no uno vuole quell'orologio lì perché gli piace perché ritiene che Washington Constantin sia una casa blasonata con i controscatoloni e poi ti deve piacere esteticamente vuole quell'orologio lì da addossare da utilizzare da mostrare anche agli altri ma non è in attesa che salgano le quotazioni così poi siamo tutti alla pari e anche io posso sfoggiarlo no no anzi col braccio fuori dal finestrino così poi passano e te lo portano via prossimo video ciao Davide buonasera Paolo da Napoli eccomi qui per la terza puntata stasera ti mostro una breve selezione dei miei orologi vintage vediamo un po' se riesco a farti vedere qualcosa che non conosci o di un po' più particolare va bene intanto qualcosa di più particolare volentieri vediamo che lui di orologi dietro alle spalle me lo ricordo è quello con gli swatch appesi al muro lì così e quella lì è la fine giusta che devono fare gli swatch non la fine giusta nel senso il senso di avere gli swatch è quello da collezionare collezionare gli swatch cioè poi alla fine metterli in una bacheca per dire questo ce l'ho questo non ce l'ho al di là di essere indossati quindi quello lì è il senso del collezionismo vero e proprio poi vedo che dietro c'è un sacco di stand ah ma questo qua è l'amico anche che ecco quegli stand famosi lì quei porta orologi lì che voi vedete qua alle sue spalle quelli con la molla me ne ha mandati due me ne ha regalati due ha voluto l'indirizzo grazie ti ringrazio qua in diretta non l'avevo non l'avevo matchato che sei te me ne ha regalati due porta orologi con la molla nel quale si mette il bracciale la molla si estrae sono veramente belli grazie mille giriamo la camera così cerchiamo di vederli tutti vai verbit 0 orologio di forma 28 per 28 calibro d'orsa 238 produzione francese la particolarità di questo orologio che in realtà è assemblato da un napoletano il mio concittadino il dalla ditta elio ciaffi di napoli che ha registrato il 22 agosto 1963 come vedi nella foto a fianco il brevetto 16 72 39 con il quale ha registrato il marchio si ha registrato il marchio simpaticamente scimmiottando zenith no? zervith zennith come facciamo un bel marchietto che suona bene alle persone agli appassionati zervith si ricorda? va bene in realtà lui costruiva le casse e importava i calibri ha avuto un discreto successo a napoli ma il marchio è andato poi a sparire e allora che è successo? a seguire avia è un swiss made con calibro st 96 orologio placato in oro dell'anno della mia nascita 1971 particolari sono la punta degli indici al trizio infatti sotto come vedrai swiss made t guarda che bello anche il fondo il dial il trizio mai consumato e notte non si vede più eh vabbè cima o saima cima questo è un flex 18 carati oro 18 carati 34,5 mm del 1955 mamma mia porta un calibro in house il 458 swiss made la particolarità è che il dial è in argento addirittura con questa bellissima lavorazione gli indici in oro bello simpatico dai andiamo avanti ulco sempre in oro 18 carati accidenti la particolarità di questo orologio è che la cassa è realizzata da max fuchs di ginevra nel 1955 si tratta di un nome abbastanza noto per la costruzione delle casse ha costruito tanti tante casse per calibri anche importanti tra cui anche la longin all'interno questo orologio porta un calibro va giù e tutti quanti gli orologi costruiti con cassa realizzata da max fuchs ma all'interno sulla testa del martello porto nel numero 175 la mulcon esiste più come casa dal 2007 è diventata watch design international guarda quanto è bellino questo è l'alco blanco 30 mm placcato oro fondello in acciaio anche qui sfera intrizio molto caruccia la sfera dei secondi nera del 1965 60 la particolarità è che monta un calibro 78 42 17 rubini della tisso il lanco fa che un marchio che ancora esistente anche se produce poco attualmente fa parte del gruppo swatch se il marchio fa parte del gruppo cioè è di proprietà del gruppo swatch però non produce più non esistono più e il calibro tisso lì dentro probabilmente è dovuto è strano non l'avevo mai sentito però è omega tisso erano già raggruppate e da dopo la crisi del 29 che omega tisso in qualche modo collaborano ma che anche l'anco probabilmente negli anni 60 anche l'anco già entrava già nell'orbita di omega tisso per poi dopo diventare nel gruppo di trasformarsi nel gruppo smh bla 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 che poi è diventato swatch gruppo hai capito interessante ti mostro questo simpatico nonnino eccolo qui ma ladier 34 millimetri cassa cromata anno 1965 bravo porta un calibro francese una lorsa un 238 e mi piacciono molto gli indici che sono sicuramente particolari abbastanza inconsueti anche il dial se si è simpatico cambiamo il genere brit scar swiss made 34 mm anche questo è un orologio assemblato da una società italiana in particolare di salerno è stata registrata nel 1954 da oscar barba oscar barba è un famoso orologiaio che lavorava nella provincia di salerno la società poi successivamente alla morte del oscar barba è stata amministrata a lungo dal figlio luca che scomparsa con la crisi del quarzo ah beh i calibri erano tutti quanti modificati personalmente da oscar barba quindi li comprava assemblava gli orologi e modificava parzialmente il calibro però c'è tutti i marchi che proprio mai sentiti dire nella mia vita è proprio veramente la cosa più strana del mondo e c'è però c'è anche una certa ricerca dietro che mette in luce la tua passione non solo per l'orologio in sé ma per quello che c'è dietro come dico sempre io che ci sia qualcosa dietro no anche a un micro brand o un orologio vintage se c'è qualcosa dietro un minimo un minimo di storia un minimo di interesse un minimo di movimento anche di persone esistite veramente come in questo caso che faceva l'orologiaio il tutto assume una luce un pochino più interessante no sempre napoletani ecco fatto questo è un 43 mm brinkmann è un noto orologiaio di napoli una famiglia di orologiai che hanno il negozio a piazza municipio tipico nome napoletano il calibro uno swiss made è un'eta 6407 vetro minerale e regalò un amico in occasione di una ricorrenza tuttora vado a trovare i proprietari del negozio che tra parenti sono vicino al mio ufficio ah bravo passiamo ora qualcosa un po più particolare vai invece sti qua orologio di forma mensile per 40 soldi il titus ginevra referenza 90 58 è un tank con numeri romani calibro in house perché un tank che c'ha di particolare questo orologio è tante cose la soldi il soldi il titus è una casa fondata nel 1892 nel 1930 si è trasferita a ginevra dal 1970 è di proprietà di una società di hong kong purtroppo è famosa perché tra le prime al mondo che forse la primissima ho utilizzato leghe come l'elinvar la platinite e l'invar la soldi il titus in particolare ha inventato il bilanciere a compensazione la compensazione termica con i contrappesi regolabili quello con cui vengono costruiti gli orologi a tavola di gg lecoutre ce l'ho avuto anche un titus sicuramente un orologio che ti piacerà molto cos'è eccolo qui col suo contenitore un login tasca argento che valente in argento con fondo mondial in ceramica bello sì il del 1900 e porta un calibro 18 68 n una cosa simpatica chiamami pazzo chiamami folle che la revisione io l'ho fatta fare in casa madre a la fatta questa è questa è la dimostrazione che che l'onjin tiene c'è infatti c'è un reparto heritage c'è proprio un un reparto con a capo una persona che va anche in giro a fare le conferenze spiegando la storia di l'onjin e tutto quanto a differenza per esempio di Tissot l'onjin è in grado di evidentemente di fare servizio agli orologi vintage addirittura quelli da tasca complimenti all'onjin poi quando uno dice i costi 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 questi costi qua di questi ambaradà no del del servizio del reparto heritage del museo di avere i pezzi di ricambio di avere mano d'opera e fa tutto ricadito poi sul sul marchio il longjin costano perché c'è anche dietro tutta questa cosa qua capito ultimo ti mostro sicura quello che molti chiamano il saltarello della sicura in realtà non è un saltarello un jump già un swiss made 43 x 36 del 1968 il calibro è un eb 582 ti voglio parlare di questo orologio perché in particolare la storia della sicura la sicura è fondata nel 1957 da ernest schneider se ricordo bene il cognome schneider era un genio all'orologeria un pilota militare un micro elettronico che con i primi guadagni e con i primi soldi comprò una quota della breitling nel 1979 in piena crisi del quarzo willy breitling proprietario della casa si ammalò e ha quasi pensato di chiudere l'azienda il buon ernest schneider personale intelligente e soprattutto genialoide acquisi il cento per cento della breitling e solo per un anno cioè tra la fine 79 nel 1980 la chiamo sicura breitling poi dal 1981 in poi il nome sicura è scomparso ed è rimasto soltanto breitling che tutti quanti noi oggi conosciamo ci ho messo sì effetti questo è anche il punto nel quale si può cadere in errore nel senso non è che è sicura che ha comprato breitling è il proprietario di sicura che ha acquisito la la totalità delle partecipazioni di breitling però sono rimaste separate non c'è stata commistione di cose uno pensa che sicura abbia la stessa qualità di breitling a volte un sicuro eccolo qua no non è così breitling è sempre stata lì e sicura è sempre stata la e il proprietario possedeva un po di di breitling poi la posseduta tuta e poi è tornato di qua quasi un anno e mezzo a far rimettere a posto questo jump che trovare i pezzi è stata una cosa alquanto complicata il cinturino il bracciale è un nafta che ti faccio vedere questo un citizen un citizen del 1982 calibro 36 44 97 referenza guarda la cosa simpatica in piena crisi del quarzo giapponesi ne producevano balanghe di questi orologi da vendere in europa per velocizzare la distribuzione li facevano assemblare in germania pensa come cambiano i tempi adesso far assemblare in germania costerebbe un occhio della testa anzi probabilmente costava anche lì però erano talmente costosi i primi orologi al quarzo che era possibile farli assemblare costosamente tra virgolette no al giorno d'oggi sono talmente i quarzi base economici che per essere tali devono essere assemblati in paesi dove la mano d'opera costa meno no malesia indonesia cina e bla 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 così via però interessante la cosa simpatica è come puoi vedere nella foto a fianco che sul dial che tra l'altro è molto bello porta come referenza del calibro il 36 30 sul fondello 36 20 la dimostrazione che anche giapponesi si comportano come tutti finiti i calibri hanno messo dentro quello che avevano o comunque gli erano rimaste le case ero rimaste dei fondelli e l'hanno utilizzati così come gli capitava sarà colpa dei tedeschi dato che tu mi hai battezzato the king of the mod ti faccio vedere l'ultima modifica da me effettuata o ma vedo lo zaffero ghiera ceramica del market clone rolex bracciale a maglie piene e vabbè non collapse come mi hai corretto l'altra volta solida va bene dai simpatica naturalmente le modifiche sono costate 4 volte l'orologio ecco fatto ti vuol dire la verità sono piaciute molto le modifiche i miei orologi in tanti tanti amici del canale e hanno contattato per chiedermi informazioni e dove comprare ciò che serve un abbraccio un abbraccio ciao ciao ecco nell'ultima immagine avete visto il porta orologi di cui io sono felice il possessore perché me li ha mandati in omaggio lui si vede che è rimasto contento della dei miei commenti al precedente video niente dai tutti i orologini vintage veramente particolari di marchi sconosciuti sui quali però ripeto hai fatto una certa ricerca no poi anche quelli delle tue zone di salerno di napoli hanno una certa varenza storica dai ha un senso avere tutti in collezione poi il difficile è ricordarsi le caratteristiche di ognuno di questi no anche semplicemente il nome del costruttore o l'anno del brevetto è per questo che io per esempio nella mia scatola dove tengo i longin vintage gli etichetto con l'anno il calibro e l'anno il calibro già già è tanto in modo da colpo d'occhio da ricordarmi quali sono cosa perché come perché altrimenti è difficile ricordarsi tutte le cose così sull'unghia quando qualcuno ti chiede qualcosa no è difficilino la modifica sul casio lì io stenderei un velo pietoso ma tanto anche se stendo il velo pietoso poi hai successo quindi qualcuno ti contatterà per chiederti le informazioni ma però o perlomeno una ghiera aftermarket la vuoi mettere va bene ma proprio quella lì del dello yacht master no cioè è troppo riconoscibile tanto tanto metti una ghiera di quelle come ce l'hanno centinaia centinaia di orologi va bene quello dello yacht master secondo me ci stona anche volendo essere critici esteticamente prossimo video ciao davide ciao ti faccio vedere la mia collezione premettendo se faccio vedere la tua collezione tanto diamo un'occhiattina cosa ci metti in mostra qua perché tutte le persone che che mandano un video vogliono un po mettermi in vostra mostra qualcosina della loro vita privata quindi vediamo che sto qua sicuramente è un pilota di linea di aerei perché qua c'è il concorde visto dall'alto eccolo lì il bel concorde che a un certo punto negli anni settanta è stato ritirato completamente perché dopo un incidente è stato ritirato dopo un incidente in conseguenza un grave incidente ma era proprio che non avevano i costi erano elevatissimi per fare un viaggio costava talmente tanto che era fuori fuori logica commerciale diciamo la verità va bene sei un pilota abbiamo capito dove sono tutti orologi che ho acquistato in seguito ad eventi importanti della mia vita non riesco a comprare un orologio entrando in gioielleria tanto per per me deve ricordarmi qualcosa deve avere un certo significato e lo ottiene proprio così tranne che per questa giofeca questo è un dallas un quarzona batteria trovato in un cassetto e aveva un quadrante bianco se non ricordo male eppur non tenendo l'occhio del sole è riuscito a ingiallire ah e non funziona non perderò nemmeno tempo ad aprirlo a cambiare la batteria cose varie perché non lo metterò mai bravo passiamo al primo orologio serio che ho acquistato in seguito il mio primo volo da solista ovvero il primo volo da solo quindi senza un istruttore momento fondamentale per la vita di ogni pilota tutor black bay 58 un orologio che mi è piaciuto fin dall'inizio soprattutto per le proporzioni è un diver che non è gigante non occupa molto spazio e con una divisa ci sta anche abbastanza bene sì praticamente se il primo volo da solista ti sei acquistato il black bay 58 vuol dire che è da poco che sei un pilota quindi insomma sei novellino diciamo la verità l'ho utilizzato qualche volta per sfizio in volo per tenere tempi di carburante o anche per i ritardi e fanfax cosa divertente l'entre il volo europeo le asa permette se non erro di avere solamente orologi automatici al polso nel caso debbano essere utilizzati per misurazioni di tempo ho provato anche a dire il vero un gmt di tutor che mi piaceva molto ma non l'ho potuto prendere perché era un pochino troppo grande per me passiamo al terzo orologio che ho comprato in seguito al mio passaggio ad un aereo diciamo serio più grande un aereo vero mettiamola così che è un 11 66 10 referenza che non ho mai visto peraltro sul canale o meglio ho visto quella precedente se non erro l'unica differenza è il fatto che non ha il quadrante come questo non mi ricordo il termine preciso per definire questa variazione di luce e colore sul quadrante solei un orologio diciamo abbastanza elegante che può stare quasi con qualsiasi completo a me è piaciuto parecchio bravo vorrei comprare un altro orologio eh chiedo consiglio ovviamente a te eh certo questo orologio che vorrei comprare lo compro diciamo per il prossimo cambio di aereo e lo vorrei consigliato non tanto in base alla marca ma in base a un colore che possa differenziare da quelli che già ho quindi sto pensando tra un day date full gold un day jazz bianco e oro un vacerone costantino overseas un GMT 16 710 l'oro non lo so qua c'è già l'oro qua c'è già quindi l'unica forse mi rimarrebbe il vacerone costantino tu se dovessi variare un pochino in colori per esempio che orologio compreresti per me sono tutti e quattro orologi validissimi che a me piacciono veramente moltissimo li comprirei tutti insieme se potessi ma non posso quindi ti ringrazio e love love e non so cosa dirti cioè ora io ti devo dare il consiglio in base al colore dell'orologio da indossare cioè non sono questi i parametri che che non si può cioè no vabbè dai dio ti dico vabbè voglio voglio caderci con tutti i piedi dai in base al colore il rolex gmt pepsi perché almeno c'è il rosso c'è il blu e è tutto più differente rispetto al resto capito così sei contento uno qualsiasi di questi vai a prendere il vacerone costantino versus bianco secondo me non c'è perlomeno credo non non sia ben leggibile non mi attizza tanto ma ecco ma prendi anzi un vacerone costantino che almeno cambi marca sempre tudor o rolex poi lì con la ghieretta sopra e anche basta no sì un bel vacerone costantino ma di un altro colore cioè bianco vabbè fai te scegli te il prossimo aereo che salirai ti scegli un altro orologio e avanti così all'infinito bravo ciao davide sono giovanni da pavia eccomi qua finalmente anch'io con il video della mia collezione in realtà una parte della mia collezione perché dentro la passione dell'orologeria ho la sottopassione dell'orologeria sovietica ovviamente ti risparmio la descrizione di tutti i miei orologi sovietici perché sennò diventerebbe un video troppo lungo te ne faccio vedere soltanto uno quello di cui io sono più orgoglioso perché è il polio tostur maschi cosiddetto type 1 questo è la versione militare ossia la prima uscita infatti vedi che il quadrante è leggermente diverso da quello che si vede normalmente senza scritte perché questo era l'orologio militare un quadrante un po più raro rispetto a quello che si vede normalmente non rarissimo negli appassionati di orologi sovietici c'è abbastanza spesso però è uno di quegli orologi che quando trovai fui molto contento e orgoglioso bravo mi piace andiamo con la parte più normale della mia collezione vedrai che ci sono due grandi marchi che io adoro per la loro storia la loro influenza sulla storia dell'uomo seiko e omega bravo e quindi partiamo subito con la parte giapponese molto velocemente sui primi seiko speed timer a quarzo carica solare un orologio che mi è piaciuto moltissimo e che indosso spesso visto che sono anche motociclista e guzzista nello specifico e quindi un orologio molto comodo da portare in moto senza grandi pensieri ci piace seiko marine master 200 baby marine master che si voglia con uno forse dei quadranti più belli in assoluto che seiko abbia mai fatto sia la versione save the ocean per l'antartide con questo quadrante bellissimo che ricorda appunto i ghiacciai dell'antartide che tu conosci bene perché hai recensito anche tu ci tengo soltanto a dire una cosa velocissima troppo poco spesso sento citare che cos'è il save the ocean nel senso che non è semplicemente un'edizione limitata bisogna dare come dire un grande plauso a seiko perché ci si dimentica che queste edizioni sono fatte per finanziare la ricerca sui cambiamenti climatici sulla salvaguardia del mare e sulla salvaguardia dell'antartide cosa che troppo poche volte si sente citare quando si parla di questi orologi ma credo che sia una cosa importante da ricordare tutte le volte che si compra un orologio seiko soprattutto save the ocean si sta cosa qua della parte ecologica ecosostenibile e insomma della beneficenza la fa seiko ma ad esempio fa anche oris nella maggior parte degli orologi mi lascia un po' il tempo che trova nel senso che si edizioni limitate dedicate a si possono anche fare senza dire niente a nessuno queste cose qua cioè la beneficenza lo metti a parte insomma sono sempre un pochino troppo politically correct per me queste cose volte a finanziare bla 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 insomma poi passiamo al vintage molto velocemente seiko 5 fine anni 70 molto carino nello specifico il 61 19 60 20 un filo più ricercato della sua versione con quadrante nera quadrante argento è un pochino più un pochino più rara eccezionale non in condizione eccelsa però perfettamente revisionato e perfettamente funzionante bello sì carino seiko pog poco da dire orologio discretamente famoso sui canali youtube un orologio che ho cercato tanto perché ovviamente la parte difficile per chi ama questi orologi è trovarli perfettamente originali come vedi non c'è il bracciale ma ho deciso di prendere la testa anche senza bracciale perché è una testa completamente originale non ci sono parti after marker e la cosa molto importante per i collezionisti seiko è che questo è un quadrante marchiato 60 09 t che era esattamente la versione americana del 71 quindi probabilmente quella comprata realmente da il colonnello pog ho capito e per chiudere la parte dei vintage seiko un orologio di cui sono molto orgoglioso perché anche se non ti dirà nulla o dirà poco anche a chi sta guardando questo video ma per i collezionisti seiko questo è un orologio discretamente raro è un banale seiko 5 del 1970 in perfette condizioni e revisionato è il 61 19 84 60 ma meglio conosciuto come seiko jean crantz jean crantz era il colonnello jean crantz ossia il capo di tutte le missioni nasa dell'apollo nello specifico il famoso generale colonnello perdon che gestì la missione apollo 13 quindi il casino della missione apollo 13 dove ci fu tutto il rientro degli astronauti questo era l'orologio indossato da jean crantz un orologio che molto ricercato perché non era assolutamente famoso quindi ne fecero come dire non ci fu bisogno di collezionarlo finché non venne fuori che fu indossato durante quei giorni dal colonnello e quindi da quel momento divenne particolarmente raro soprattutto in queste condizioni per la ghiera che è una ghiera in alluminio che si rovina molto molto rapidamente interessante, l'amico qua ci ha raccontato una cosa che per noi che non siamo collezionisti di seiko così settoriali da andare a scavare, a scavare, a scavare è interessante anche qua si può vedere come cioè ce n'è per tutti i gusti uno che si concentra particolarmente sul seiko e poi ci sono migliaia, migliaia di informazioni da apprendere per poter trovare quel dato orologio quel dato quadrante veramente se trasliamo da seiko a un altro marchio a caso prenditi Citizen e ci sono ugualmente tante altre situazioni nelle quali studiare i Citizen per poterli collezionare non si finisce più, è impossibile veramente è bello che qualcuno si concentri su queste cose complimenti all'amico perché si sente che c'è la passione e c'è la voglia di ricerca di orologi particolari bene, passiamo agli svizzeri vai niente da dire no Omega Swatch Omega che dir si voglia mai indossato era tanto per averlo visto che sono un appassionato di Omega e anche questo qua lo vogliamo mettere come ad esempio è uno Swatch questo come gli Swatch del video precedente sulla parete oppure con il collezionismo fine a se stesso cioè avere anche questi Moon Swatch da collezionare averne uno per dire io ce l'ho ci sta ci sta chiaramente tutt'altra cosa rispetto a coloro i quali all'inizio magari succedeva pensavano di aver preso l'orologio per fare il business il nuovo Speedmaster in plastica cioè c'era per tutti i gusti no poi è calato tutto l'hype e questo ha senso specie specie in una persona che ha questo genere di orologi questo genere di passione ci sta un orologio così quello che invece è inconcepibile in chi lo compra proprio perché pensa di affiancare è il punto la punta di diamante della sua collezione capito è un'altra roba e di spazio e quindi è preso cambiato il suo cinturino ma indossato ce lo teniamo qua bravo altro orologino di cui sono particolarmente orgoglioso perché è un Perseo adesso lo mettiamo anche a fuoco eccolo qua Perseo Sport Automatic un Perseo molto poco visto molto bello anche questo revisionato metà anni 50 se non fine anni 50 la particolarità di questo Perseo è che è un cassacciaio e soprattutto è uno dei primissimi movimenti Coteberg automatici nello specifico quelli a martelletto eh interessato beh anche bello e adesso arriviamo ai miei tre orologi importanti cos'è cos'è Omega Cosmic Cosmic Seamaster Cosmic in una versione particolarmente meno vista cioè col Day-Date orologio perfettamente originale e tra l'altro con quadrante restaurato in Omega che ho preso in un negozio qua a Pavia molto famoso per noi appassionati dell'orologeria è un orologio di cui sono innamorato perché ovviamente è perfettamente funzionante e restaurato appunto da Omega il calibro nello specifico è il 752 quindi non uno dei calibri più come dire più più di pregio però comunque un carico auto un movimento automatico che funziona molto molto bene lo metto in occasioni particolari quando voglio essere un pochino più elegante come vedi anche la corona è originale e soprattutto anche l'ardiglione che è coevo nel senso letterale perché non è ovviamente del suo orologio ma è un'ardiglione originale degli anni 70 questo è un orologio del 1969 69 poi prima delle mie due bombette altro orologio di cui sono molto orgoglioso è Prime Prime del 1997 revisionato perfettamente funzionante calibro Zenith 420 che non è altro che nel primero senza il rotore di carica perché questo è un orologio a carica manuale bellissimo che anche questo indosso discretamente spesso come tutti i miei orologi completamente originale anche con la sua col suo ardiglione il bracciale l'ho messo io perché il suo bracciale dell'epoca era discretamente revisionato distrutto full set nel senso che l'ho preso con la sua scatola degli anni 90 la sua garanzia e tutto quanto un orologio che è veramente di un'eleganza unica che ha fatto penare l'orologiaio che l'ha revisionato perché chi l'aveva gestito prima l'aveva gestito veramente male e quindi c'è stato un po' da sudare però è tornato perfettamente funzionante ottimo e infine l'orologio che per me è stato il raggiungimento di lavoro e di fatiche che è l'Omega Speedmaster Professional nello specifico l'ultima versione prima del coaxial quindi 2020 l'ho preso esattamente in questa versione perché come tu feci un video dove giustamente portavi la tua opinione sul fatto che le caratteristiche tecniche di quest'Omega non giustificavano secondo te il prezzo o comunque che non era il motivo per comprarlo motivazioni legittime il bello dell'orologeria è che ognuno ha la propria visione perché per me le motivazioni che per te non lo facevano diventare un orologio valido da acquistare intendiamoci non hai mai detto che lo Speedmaster non era un orologio valido per me sono invece quelli che me l'hanno fatto comprare vetro esalite fondello chiuso il classico movimento 1863 per me è lo Speedmaster che cercavo ed è l'orologio che praticamente indosso di più e che porto spesso in tutte le occasioni bravo bene chiudiamo con due orologi che sono quelli della mia compagna perché anche la mia compagna si è appassionata all'orologeria e usiamo i tuoi video anche come momento di condivisione e ci tengo a farteli vedere perché sono particolarissimi questo è un piccolo gioiellino che gli ho trovato io è un Bulova dei primi anni 50 o forse anche addirittura fine 40 completamente originale con sua corona revisionato e perfettamente funzionante questo è un orologio particolare perché se ti ricordi un po' di tempo fa uscì una serie tv che era la regina degli scacchi perfetto questo era l'orologio che lei utilizzava durante le gare di scacchi l'ho visto l'ho visto è vero e infine sempre per la nostra passione Omega un orologio a cui siamo tutti molto cari questo bellissimo vediamo se riusciamo anche a metterlo fuoco eccolo qua Omega Ladymatic un orologio anche questo degli anni 70 tenuto in condizioni perfette revisionato e la storia di questo orologio è molto emozionante perché faccio un lavoro particolare faccio il medico ma nello specifico sono un medico pagliativista quindi mi occupo di gestire la qualità di vita delle persone che sono arrivate alla fine della loro vita questo orologio mi è stato regalato da uno dei miei ultimi pazienti che si chiama Giorgio che ricordo con affetto perché me l'ha regalato? perché Giorgio è stato uno degli ultimi grandi orologiai nello specifico è stato uno dei direttori o meglio comunque uno dei capi tecnici di Zenit di Omega di Tagoyer di Eberar una persona stupenda che abbiamo passato ore e ore a parlare di orologi durante le mie visite e che è morto poco tempo fa come dire purtroppo è normale che sia nel mio lavoro il mio compito è che questa cosa avvenga nel migliore dei modi e prima di morire mi ha regalato questo orologio che ovviamente io ho dato alla mia compagna bene basta direi che abbiamo detto tutto sicuramente con qualche imprecisione ti saluto un grandissimo abbraccio love love complimenti tutti i begli orologi bella storia che c'è dietro anche del tuo lavoro anche di quest'ultimo orologio insomma ci è piaciuto dai diciamo così non andiamo non andiamo oltre sì poi te dicevi dell'Omega con il calibro 1861 che è il tuo preferito a differenza del mio sì perché io dicevo che era rimasto praticamente l'unico orologio con un calibro non certificato all'interno della collezione degli Omega in vendita erano tutti metas o cronometer costiali e c'era rimasto solo lo Speedmaster a non essere certificato in quella e io avrei voluto uno Speedmaster con le stesse caratteristiche degli altri Omega che era una collezione e poi è uscito il 3861 che ha messo ha tagliato subito tutto e ho preso complimenti sia per gli orologi per la ricerca per la passione che per il lavoro spero ti va tutto bene nella vita prossimo ciao Davide Jacopo da Roma ciao Jacopo volevo ringraziare per la compagnia che ci tieni ti voglio fare i complimenti per il canale ti seguo sempre e niente devo presentare la mia piccola collezione di orologi che ho iniziato all'incirca da diecina d'anni fa ah beh dieci e e niente con tanti sacrifici anche più avanti allora partiamo subito subito questo è il primo orologio che mi sono fatto che è un Longin Conquest simpatico al quarzo a batteria no è più simpatico questo è stato il primo dopo il primo lavoro fatto lo vidi a un negozio e e lo comprai così all'epoca lo pagai all'incirca 500 euro credo sì più o meno sì ancora c'ho lo scontrino da qualche parte un quarzo comunque anche questo è un bello orologietto nel senso mi ha accompagnato anche un po' rovinato infatti mi ha accompagnato un sacco di tempo un sacco d'anni serate e quant'altro bravo e e insomma ecco è stato con me sta con me da dieci anni bene subito dopo ho trovato un annuncio qui a Roma che vendevano ma perché non ve li preparate un longin oversize anche questo anni 60 dovrebbe essere 38 mm quadrante tapisserie e quadrante tapisserie no il quadrante tapisserie è quello a quadretti quello del de marpiguer royal oak per intenderci quadretti in rilievo questo qua sarà un quadrante un po' soleil ma tapisserie no poi cosa c'è io vedo la clessidralata e sotto la clessidralata vedo vedo la sagoma stampata sul quadrante della clessidralata sembra quasi che la clessidralata non dovesse esserci lì che la scritta longin di quel colore lì la clessidralata sottostampata e antimagnetic che sono tutti e tre dello stesso colore sembra però sembra quasi una posticcia la clessidralata sarà non sarà boh corona originale ed ed ecco qua anche questo molto carino non lo uso spesso però insomma ogni tanto lo metto cambio il cinturino da poco messo questo cinturino occhi di pelle così niente di particolare però insomma l'orologio è grazioso grazioso molto grazioso mi ha accompagnato da un sacco di tempo e niente e niente dai vai a pigliare di là abbiamo dove sogliai Dayjust 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 quadrante purple questo è molto particolare un orologio particolarissimo perché questo qui io il top non te lo do non te lo do perché non si può guardare a parer mio è sempre tutto soggettivo in questo in questo ambiente ma sto orologio qua viola con i numeri romani al 6 e al 9 diamantati mamma mia si fa fatica si fa fatica a farselo piacere questo qua è da 36 mm comunque contento te contenti tutti d'altronde è stato il mio primo Rolex e preso al concessionario la particolarità di questo orologio è che ha i diamanti sul 6 e sul 9 uscito proprio così referenza 126 234 calico 32 35 acciaio oro bianco vetro zaffiro c'è questa particolarità di questo di questo quadrante purple e questi diamanti sul 6 e il 9 lui praticamente mi chiamò il concessionario e mi disse guarda ho a disposizione un Datejust che è stato un praticamente un personaggio noto mi disse non l'ha ritirato non l'ha ritirato perché l'aveva ordinato tutto quanto poi l'ha visto dal vivo e secondo lui era troppo femminile io ho detto vengo a vederlo sono andato e porca miseria mi è piaciuto subito è particolare però fa sempre la sua figura il Datejust si fa sempre la sua figura vabbè bracciale ecco qua la particolarità di questo orologio anche è che si dice che ce ne siano 10 in Europa nuovi ebbè solo 10 disponibili ci credo meno male mai indossati e niente le caviano sotto mano secondo me è perché non li vuole nessuno nel senso che anche questo qua l'ha ordinato poi l'ha visto ha detto no no tienilo te te ti hanno chiamato ti hanno detto c'è questo qua che nessuno vuole e tieni nella tua testa pensando che la chiamata del concessionario Rolex per offrirti un orologio significa una rarità lo devo chiapare io per forza secondo me questo qua vai lì lo ordini e te lo fanno arrivare perché chi è che lo vuole cioè sono 11 in Europa e 11 sono lì per sempre perché l'ho preso e già è aumentato anche di valore è aumentato anche parecchio io l'ho preso da un anno e mezzo e già già l'ho ritrovato in questi giorni a 2-3 mila euro di più secondo me lo paghi al listino ma in concessionario lo prendi secondo me ti faccio vedere NOS 2023 bello questo top master Rodion Dial acciaglio e platino yes anche questo qui è stato l'ultimo orologio che ho acquistato e quest'anno un mese fa bello sempre qui a Roma tramite negozio in gioielleria l'ho preso questo qui non l'ho preso dal non l'ho preso dal rivenditore non l'ho preso al concessionario l'ho preso da un rivenditore comunque autorizzato eccolo qua appena preso proprio c'è un mesetto questo bello mi piace a proprio un mesetto mi piace referenza 126 622 niente niente da tanti sacrifici tanti sacrifici però insomma il pezzo è quello che conta e poi per ultimo ti faccio vedere che cosa dove ce l'ho che metto tutti i giorni su mare su mariner 116 610 lm anno 2016 e che dire vabbè questo è veramente questo è quello che uso tutti i giorni è stato un sogno di sempre ho sempre veramente desiderato il su mariner e alla fine ho fatto questa follia e l'ho preso è un orologio è un orologio splendido proprio splendido spettacolare veramente non c'ho parole per il sub per il sub nero e niente davide questi qua sono i miei pezzi ho anche un paio di casi ma non mi sto a mettere a farti di quei casi ti voglio far vedere solo questi qua bravo per i quali insomma mi sono dato abbastanza da fare negli anni bravo e niente davide ti ringrazio grazie a te un saluto al canale love bella da bella da bella da ci piace tanto bravo orologi simpatici a parte il digest che non si può guardare con i diamanti poi i numeri romani dove ci sono i diamanti sono anche più grandi capito ti risaltano di più veramente sembra poliomelitico come quadrante asimmetrico completamente non ci piace a me plurale maiestatis mi piace invece lo yacht master che secondo me è l'orologio che io prenderei al posto del submariner che ti hai messo per ultimo che il submariner è insomma visto stravisto banalotto preferirei lo yacht master con il quadrante blupero al momento certo che costa molto di più di un submariner mi sembra lo yacht master forse anche per quello che se ne vedono di meno sono buoni tutti a prendere sempre il submariner va bene comunque sei stato simpatico spigliato cioè insomma ci hai fatto prendere ci hai fatto appassionare al tuo video bravo 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 ragazzi io direi di finirla qua perché se no se mi capita un altro video così magari mi addormento vi ringrazio per essere arrivati fino qua e spero vi siano piaciuti i video gli orologi dentro i video il video che racchiude i video e il presentatore che presenta il video che racchiude i video nei quali ci sono gli orologi che al mercato mio padre comprò vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love love Grazie a tutti.